Musica Incidente questa mattina martedì 6 marzo intorno alle 9.30 a Castellamonte in zona Bettolino, all'altezza dell'incrocio per la strada provinciale di Torre Canavese. Per causa ancora da accertare, una Citroen C2 si è scontrata con una Volkswagen Polo. A seguito dell'impatto, la Citroen è carambolata all'autostrada contro il muretto di un'abitazione, perdendo la ruota anteriore sinistra, mentre la Polo ha fermato la sua corsa al centro dello spartitraffico dell'incrocio. Nessuno è rimasto ferito, ma al momento della compilazione del CID, l'uomo che era la guida della Polo ha abbandonato l'auto e si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente per poi tornare sui suoi passi dopo circa mezz'ora. Secondo la dichiarazione del ragazzo che guidava la C2, l'uomo a bordo della Polo si è fermato in centro strada senza aver messo nessun dispositivo di segnalazione e l'impatto è stato inevitabile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS